Insomma mi sembra abbastanza chiara la cosa, confermo quello che ha detto Mori, il Siena ha fatto la sua partita, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto un'ottima prestazione, come facciamo continuamente anche in allenamento proviamo sempre a giocare per vincere, abbiamo provato anche oggi, non è voluto entrare, non mi va neanche di soffermarmi sugli episodi, non mi interessa, mi interessa la prestazione dei miei ragazzi. Faccio complimenti a loro perché hanno fatto veramente una gran partita sotto tutti i punti di vista, non c'è stato uno di loro che non ha dato il 110%, la cosa che mi dà un po' fastidio è il fatto che siano usciti senza neanche un applauso, è una cosa che mi dà fastidio, è una cosa che mi dà noia, è una cosa che non si meritano perché stanno lavorando alla grande, io non so, forse erano abituati a cose diverse qui non lo so, però oggi i miei ragazzi hanno dato il 110% e si meritavano un grande applauso dallo stadio, questo non c'è stato, non c'è problema, andiamo avanti, lavoreremo, proveremo a levargli questi applausi dalle mani ai nostri tifosi. Ministro, alla luce della prestazione, le potenzialità e le ambizioni della solo chiesa? Noi siamo ambiziosi, noi siamo una squadra ambiziosa, io sono un allenatore ambizioso, non mi vergogno a dirlo, ho fatto così da calciatore, sono arrivato a giocare a certi livelli perché ero ambizioso, lo sono da allenatore, cerco di trasmettere questi ai ragazzi, cerchiamo di giocare per vincere le partite giocando a calcio, si sogna, i sogni non costano niente, noi lavoriamo tutti i giorni per realizzare il nostro sogno che è stare là davanti. La classifica a suo giudizio rispetta i reali rapporti di forza? No, secondo me della mia squadra no, perché domenica abbiamo lasciato due punti a Macerata, oggi abbiamo lasciato secondo me due punti col Siena e quindi non rispecchia le reali potenzialità di questa squadra, ma nell'arco delle 38 partite alla fine i veri valori vengono fuori, non c'è nessun dubbio, non ho mai pensato che le classifiche alla fine siano classifiche bugiarde, rispecchiano la reale condizione della squadra.